Lunedì 21 ottobre 2019, buonasera a tutti, io sono Andrea Valdeschi e siamo qui con un nuovo episodio di Municipio X, l'approfondimento dedicato alle realtà milanesi e della città metropolitana che vengono dal lunedì, il mercoledì e il venerdì sera, come vedete sono qui in compagnia della mia ospite di stasera, io do un carissimo benvenuto a Chiara Cazzamali, travel blogger. Esatto, ciao! È la prima volta, se non sbaglio, che abbiamo un travel blogger qua in redazione. Sono onorata. Quindi ti faccio subito una domanda, cosa si prova ad avere tanti follower su un social? Beh, è una bella compagnia, devo dirti, nel senso che sono persone alla fine, oltre che follower, e quindi sono persone che ormai sento tutti i giorni, che mi commentano, che mi scrivono, che mi chiedono consigli e quindi è una cosa bella per me. Ecco, la particolarità tua è che hai un sito web che è i posti più belli a Milano e nel mondo, però, come mi dicevi anche prima, fuori onda, sei molto focalizzata sulla città di Milano. Assolutamente! E questa è una cosa particolare, no? Rispetto alla definizione di travel blogger. Ecco, come mai proprio Milano? Beh, allora, innanzitutto Milano è la mia città. Io sono nata a Milano e ho sempre vissuto a Milano. Questo è un fatto per me molto positivo, forse per alcuni può essere limitante, nel senso che non ho fatto esperienze in altre città, ma Milano è il posto appunto in cui ho sempre vissuto e quindi ho sempre amato questa città visceralmente, anche prima che fosse di moda, nel senso che adesso Milano è un po' sulla cresta dell'onda, è un po' più facile amarla, è più bella, ma per me è sempre stato un amore totale, nonostante le difficoltà che chiaramente ci sono in una città come questa. Certamente! Da quanti anni fai la travel blogger? Allora, dal 2016, il blog, sono tre anni, il blog ha tre anni, la pagina Instagram qualche mese in più, e sì, tre anni a novembre proprio. Ok, quindi hai cominciato prima con la pagina Instagram? Sì, qualche mese prima e poi è partito il blog, che comunque è molto importante per me. Ecco, ma come funziona? Instagram, io sono un millennial ma non ho mai capito come funziona, cioè tu hai cominciato da zero. Sì, assolutamente, zero a zero proprio, nel senso che non avevo neanche nessun genere di contatto nel mondo della comunicazione e dell'EPR. Ero semplicemente una quarantenne abbondante che frequentava molto i social, nel senso che ero, come ti dicevo, un po' addicted su Facebook e Instagram a livello personale. e avevo questa passione comunque di pubblicare foto di un certo tipo, generalmente foto di locali vuoti, se vedi la mia pagina Instagram non troverai mai una persona nei miei posti, se non raramente me, ma raramente. e avevo questa passione già prima, un bel giorno, ho pensato di canalizzarla in una cosa un pochino più istituzionale. Ed è stato per passione, assolutamente per passione. Cioè tu non ti immaginavi che sarebbe diventato il tuo lavoro? No, assolutamente no, perché non avevo neanche francamente capito che ci fosse poi in realtà un mercato, in questo senso. Instagram stava cominciando a diventare un canale pubblicitario. Ovviamente adesso è un lavoro, rimane una passione, nel senso che la stragrande maggioranza dei miei posti sono fatti spontaneamente dal cuore. Ok, diciamo che stai... Sto bilanciando. Sto bilanciando tra personale e istituzionale, nel senso di lavoro. Di lavoro. Quindi tu mi dicevi, no, ci sono degli sponsor di cui ovviamente non facciamo nome. Certo che però vengono, quando ci sono dei progetti di marketing, chiaramente vengono nominati nei post, perché è sempre molto importante scriverlo. E vengono anche selezionati da me, nel senso che è molto importante, come ti dicevo prima, essere coerenti e quindi accettare progetti che siano in linea con quella che è la mia filosofia. Anche perché i follower ti seguono, perché si ritrovano in quello che fai. Se tu a un certo momento cambi o parli d'altro, diventa secondo me poco coerente. Ecco, ma la prima volta che uno sponsor ti ha chiamato, cosa hai provato? Sono stata molto felice, molto felice anche perché è stato un progetto bellissimo, fatto per un albergo di Milano, un progetto però sul Liberty. Quindi ho dovuto fotografare i palazzi Liberty, tre palazzi intorno, nelle vicinanze di questo albergo di Milano, che già di per sé è bellissimo, storico. E io sono laureata anche in storia, quindi per me è stato veramente il massimo, anche perché ho avuto totale libertà nel tipo di foto e nella didascalia che noi chiamiamo Caption. Ok. E quindi è stato veramente un momento bellissimo. Dicevi allora travel blogger, laureata in storia, mamma di due bambini. Sì, che ormai sono quasi dei ragazzini, 14 anni, 11, quasi 12, quindi... E prima? E prima sono stata, come ti dicevo prima, un head hunter, quindi selezione del personale di quadri e dirigenti nel settore finanziario. Questa è stata la mia vita precedente, che non è mai stata però la passione ovviamente che conosco adesso nel mio blog. Ma la tua passione nasce di più da un'idea di travel e quindi di viaggi o da un'idea di fotografia? Dunque, diciamo che la mia passione vera è quella di comunicare attraverso sia le parole scritte, perché a me piace moltissimo scrivere. Io scrivo abbastanza dappertutto, sul mio telefono, su foglietti, ho delle specie di ispirazioni che mi colgono un po' quando vogliono loro. E quindi la scrittura è molto importante e le foto. Ma come ti dicevo, sì, il viaggio, ma il viaggio per me, il primo viaggio è a Milano sotto casa. Quindi il mio concetto è proprio quello di cercare di trovare dei posti belli che siano dei momenti belli ogni giorno. Anche se sono cinque minuti per un caffè in mezzo a una cosa difficile, a una cosa faticosa che abbiamo un po' tutti nella nostra giornata, trovare quei cinque minuti. Questa è un po' la mia filosofia. Poi ovviamente il viaggio, quando si può, volentieri. Ci sono delle zone della città che preferisci fotografare, anche dei momenti quotidiani della giornata, però nella città di Milano? Beh, io frequento molto il parco Sempione, abito abbastanza vicino, corro anche e quindi devo dirti che mi capita spesso anche di fermarmi mentre corro e non dovrei, perché faccio fotografie. Fra l'altro anche in galleria mi succede di rifare sempre la stessa foto. Non hai idea, ogni volta che vado alzo gli occhi e faccio la foto e ne avrò duemila uguali, però non riesco a non farla. E zone più, diciamo, caratteristiche, non lo so, a volte quando parli di Milano parli un po' del traffico, del lavorare tanto, eccetera. Hai delle foto che incanalano questi momenti? Della vita, diciamo, più frenetica. Ma diciamo che io cerco un pochino il contrario, quindi nelle mie foto anzi sembra sempre piuttosto in pace la città. Ho dei luoghi anche un po' segreti o che comunque dove mi rifugio. Possiamo dirne uno? Sì, uno che poi non è così segreto, ma è un posto che per me è meraviglioso, il Chiostro delle Rane che c'è alle Grazie. È un angolo meraviglioso qualunque ora del giorno ed è un posto veramente di pace dove puoi stare. Ma poi Milano ha tanti punti segreti dei giardini, c'è un altro dietro sempre a Via Meravigli. Ci sono dei giardini dentro i portoni, Milano si nasconde molto al pubblico e quindi bisogna un pochino conoscerla. Devo dirti che sono molto affascinata anche dai grattacieli nuovi, nonostante io sia una storica e un amante delle case vecchie, rimango incantata sempre quando vado a City Life e anche lì rifaccio sempre le stesse foto e ogni tanto le ripubblico. È un bel lavoro quello che hanno fatto secondo me del parco. Di restyling, diciamo. E cosa ne pensi se hai già un'opinione in merito rispetto al nuovo stadio che vogliono costruire? Ma penso che, allora io sono un po' nostalgica di mio, quindi non aiuto moltissimo l'innovazione, no? Sono un po' da Roberto Vecchioni, Lucia San Siro. Però sicuramente può essere una cosa molto utile per la città. Del resto, se ci pensi, tutto quello che sta succedendo negli ultimi anni è sempre stato contestato, controverso, eppure la città è molto migliorata. Se pensiamo a Expo, la metropolitana, tutti i disagi che comunque abbiamo avuto, però Milano oggi è sicuramente un'altra cosa rispetto a dieci anni fa. Quindi penso che sarà un fatto positivo anche questo. Ascolta, invece, ti capita mai di ricevere delle richieste da parte di chi ti segue, no? Sui social rispetto a chi vuole venire a visitare Milano e magari ti chiede di fargli, non lo so, un itinerario della città. Che mai è capitato? Mi è capitato, mi è capitato perché appunto dei follower venivano magari per un weekend, quindi unire, soprattutto mi chiedono cultura più svago, perché io parlo tanto di cultura. Ho anche una piccola pagina che si chiama meglio una mostra gratis, ma questa è proprio una cosa mia sentimentale, perché ogni mese faccio sul blog un post sulle mostre gratuite che ci sono a Milano, che sono tantissime e spesso sono in posti molto belli che appunto si possono visitare gratuitamente. E quindi sì, molte persone mi chiedono consigli su tante cose, sul pranzo della domenica, su percorsi a Milano. Io vorrei scrivere sul blog molto di più, ma non ne ho tanto tempo. Ho un percorso bellissimo che parte appunto dalle Grazie e arriva fino alla Brisa, via Brisa, alla vecchia Milano-Romana, e con tutte le, diciamo, le fermate di negozi, di chiese, di la vigna di Leonardo, insomma è una zona che quella conosco molto bene. Un percorso culturale. Un percorso culturale che però unisce anche magari qualche posticino dove mangiare bene e dove bersi un bel caffè, sì. E se tu mi dovessi dire, cioè sei una travel blogger di Milano, quindi Milano immagino che tu la conosca a menadito. Sì. Se tu mi dovessi dire i tre posti che preferisci come città invece, al di là della fotografia, al di là che ci sono... Città che non sono Milano ovviamente. No, no, Milano, Milano. Sì. Sempre, cioè, tre zone di Milano che ti colpiscono. Ma allora, come ti ho già più volte accennato, sicuramente la zona che conosco meglio, che trovo veramente spettacolare, quella di Corso Magenta, poi c'è Leonardo, adesso quest'anno ne parlano tutti, ma ovviamente li viveva e ha lasciato tracce ovunque, quindi quella è la parte sicuramente che preferisco. Poi amo moltissimo, come ti dicevo, la parte sia di City Life ma anche di Porta Nuova, quindi mi piace molto Piazza Gaolenti e mi piace molto il contrasto tra la parte nuova e poi queste casette di ringhiera che ci sono lì in mezzo, che sopravvivono in mezzo appunto ai grattacieli. E una zona che sto riscoprendo, l'ho scritto proprio due giorni fa, poi è quella dei Navigli, che è una zona che io non ho mai amato da giovane, ma mi ha sempre un pochino confuso, devo dirti, io non ho mai amato particolarmente la serata, il sabato sera in giro, molto confuso, e i due Navigli stessi li ho sempre un pochino confusi tra di loro, pur essendo milanese al 100%. Eppure ultimamente li sto riscoprendo perché stanno nascendo delle cose bellissime, ne ho visto, questo lo racconto magari, ne ho visto adesso proprio un posto meraviglioso che hanno appena aperto, lì sul Naviglio che si chiama Combo, magari ne hai sentito parlare, è una vecchia casa di ringhiera ed è diventato un ostello, bellissimo, un posto potremmo essere a Berlino, New York, tutto vetri, cortili, un posto dove si può stare a lavorare, a mangiare tutto il giorno. E ti ha affascinato. Molto, bellissimo, un posto veramente giovane, ecco, se avessi qualcuno che viene da fuori e mi chiedesse dove dormire, anche se a un ostello si possono chiaramente prenotare le camere intere, lo manderei lì in questo momento. Beh, è una bella cornice, no? Sì. Quella di Milano, nella zona dei Navigli. Sì, sì, sì. No, dicevo, poi ci sono tante altre zone, c'è l'isola, insomma, ci sono tante cose belle in giro. Ecco, molto spesso si sente parlare di queste luci e ombre, no? Sì. Il fatto che le periferie vengano un po' abbandonate. Ecco, tu da travel blogger, comunque da persona che sei abituata a girare la città e a fotografare momenti della vita quotidiana, hai notato anche tu questa differenza sostanziale tra centro e periferia? Quello sicuramente, anche se adesso appunto il Comune sta cercando di lavorare tanto per le periferie. Devo dirti che c'è una cosa che in questo momento mi fa un po' specie ed è, se vuoi, un paradosso, cioè trovare delle situazioni disagiate, molto disagiate in centro a Milano, perché se tu passi per esempio in San Babila sotto le gallerie o anche in Cadorna, trovi persone che soffrono in pieno centro e ti sembra quasi impossibile che ci sia tutto quello di cui abbiamo parlato. Che a 5 metri dal Duomo ci sia. E ogni tanto, ecco, la paura che questa città possa diventare una città soltanto per chi se lo può permettere, c'è. Questa paura un pochino c'è. So che ci sono tanti investimenti in arrivo, immobiliari, e speriamo che rimanga una parte per tutti, ecco, per le persone che ci sono nate, che magari fanno un po' più fatica, perché è certamente una città che amo, ma è una città anche molto impegnativa da vivere. Invece ti sei fatto un'idea anche sulla questione dello smog, la questione di allargare la zona E, Copass, area B, area C, tu come la vedi? Ma allora, io sinceramente non sono chiaramente una tecnica, quindi non so entrare nel merito. Vivo positivamente le iniziative che ci sono, perché credo che tutto sia meglio del nulla o delle domenica a piedi, sono sincera. Ho vissuto in questi anni, ovviamente, con i bambini piccoli, grandi disagi, no? Perché poi leggi l'inquinamento come cambia da una via all'altra addirittura, o nel parco, dentro il parco o fuori dal parco, ma di 5 metri, cambia il livello. Quindi è sicuramente un problema grosso questo che abbiamo. Io vivo in maniera positiva le iniziative, ripenso ogni tanto anche al discorso, non c'entra niente, ma del divieto del fumo. Mi ricordo quando fu promulgata la legge, grandi critiche, noi stessi io fumavo quel tempo, ci sembrava una roba allucinante, e poi è servita. Quindi la mia speranza è che tutto possa servire. I mezzi a Milano funzionano bene, sinceramente, e devo dire che anche il biglietto, adesso non voglio entrare nel merito, è aumentato, però ci sono tante possibilità. Mia figlia ha fatto l'abbonamento come minore, 14 anni, e il mio piccolo adesso ha la sua tessera gratuita, perché è sotto i 14 anni, e con quello, insomma, è già un aiuto per le famiglie. Del resto non si può pensare di eliminare le macchine senza una rete di questo tipo. Poi c'è il problema delle caldaie, ma non entriamo nel merito, questi sono tecnicismi. No, perché c'è effettivamente, quindi forse bisognerebbe pensare anche a quello. Eh sì, perché mi sa che è il maggior responsabile. Ascolta, torniamo un attimo a te. Hai dei progetti futuri su Milano? Sì, 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 ho dei progetti futuri di vario tipo. Dai, spunciamo qualcosina, dai. Ma allora, io sto collaborando, beh, una cosa, ti racconto più che altro, sì, un tipo di cliente con cui sto collaborando, molto interessante, perché si occupa di visite guidate, e certe volte a Milano è difficile accedere a certi musei, penso al Cenacolo adesso in particolare, che è diventato veramente difficile da vedere. E ecco, con questo cliente è tutto molto più semplice, perché appunto si acquista il biglietto direttamente da loro, e devo dire che questo è un servizio che mi piace molto raccontare. Mi piace molto anche raccontare di libri, ho qualche collaborazione con qualche casa editrice, perché il libro è un posto bello, secondo me, anche quello. Quindi vedremo nel futuro prossimo un bel book fotografico. Sì, sì, c'è già una sezione nel blog che si chiama Meglio un libro bello, e ecco, un progetto mio, sei forse il primo a cui lo racconto. Scoop, allora facciamo questo primo scoop qua a Milano News, perfetto. Mi piacerebbe parlare anche di persone, stavo pensando a una nuova sezione, Meglio una persona bella, e mi piacerebbe fare delle interviste, come stai facendo tu a me, di persone che hanno un legame con la città di Milano, magari delle donne, ancora meglio, e che ci raccontino un po' quali sono i loro posti belli e soprattutto la loro un po' filosofia. Quindi questa cosa che io sento, Mia, del cercare un qualcosa di bello tutti i giorni. È un bel progetto. Ecco, questo è il mio sogno nel cassetto, ma purtroppo il tempo è quello lì, quindi... Certo, certamente. Ci proviamo. Ok, Chiara, credo che sia tutto. Va bene. Diamo ancora magari gli indirizzi per poterti seguire. Sì, allora, è facile perché è sempre meglio un posto... Cioè, meglio un posto bello su Instagram, su Facebook e su internet www.meglionpostobello.com Mettete un bel follow. Esatto. Ecco, ti faccio una domanda un po' cattivella. Rispondi sempre a tutti? A tutti, a tutti i commenti. Non c'è un commento che non rispondo nelle foto e a tutti i direct. Assolutamente sì, sempre. È molto importante per me. Ok, quindi voi che ci state seguendo, riempitela di messaggi e vi risponderà sicuramente. Assolutamente, grazie mille. Va bene, grazie Chiara per essere stata con noi. Grazie a voi. Per averci seguito, noi ci rivediamo mercoledì con una nuova puntata di Municipio X e comunque potete seguirci sempre tutti i giorni sulla nostra pagina Facebook di Milano News. Buona serata.